Io a 14 anni iniziai canto, il primo anno fu un disastro perché ero deriso da tutti praticamente. L'unica cosa che hanno saputo dire in molti è stato trovati un piano B. Quindi io sono contento di dove sono arrivato, dove arriverò, perché comunque io punto sempre più in alto. Ad aspettare la vita che viene, manchi come il sole, manca questo cielo, non ho mai dimenticato cosa siamo stati noi. Andres, un sogno che si realizza con questo evento live, La Musica nel Cuore, perché questo nome? È il mio primo vero concerto appunto, mia mamma mi diceva sempre tu hai La Musica nel Cuore, da lì è nata il nome di tutto l'evento che poi andrà a presentare il mio primo vero disco, totalmente dal vivo. Un disco di inediti, live, dove canti le tue emozioni. Un disco, sì, dove canto tutte le mie emozioni, ho messo veramente tanto cuore all'interno di questo progetto, canzoni che spero possano emozionare anche chi ascolta. Quanto tempo ci è voluto per realizzazione di questo disco? Allora, nel disco abbiamo lavorato per circa nove mesi, sono tredici canzoni, totalmente suonate dal vivo, musiche ricercate che possano andare ad emozionare soprattutto. Un collaborazione, un lavoro insieme al tuo amico Massimo Bartolini, nonché fonico e DJ. Esatto, con me sul palco ci sarà Massimo Bartolini, che io saluto tantissimo, a cui mando un grande abbraccio e ormai è una mia grande spalla destra e mi aiuterà in questo bellissimo concerto. Per partecipare e per seguire questo concerto i biglietti sono disponibili presso un sito, un botteghino? Sì, i biglietti sono disponibili sia online sul live ticket, altrimenti ci sono i vari punti vendita che sono annunciati nei manifesti. Allo stesso Politeama nei giorni di mercato si potranno trovare in esposizione i biglietti e quindi acquistabili, altrimenti c'è il numero di telefono di segreteria riportato sul manifesto a cui si rivolge chiaramente le informazioni e tutte le richieste direttamente chiamando a quel numero. Ci sarà occasione e possibilità anche di acquistare il tuo disco direttamente la serata del concerto? Esattamente, il disco sarà disponibile in versione limitata, in coppia fisica, direttamente all'interno del Politeama quella sera. Perché venire al tuo concerto Andres? Perché si torna bambini e ci si emoziona, 100%. In bocca al lupo allora. Viva il lupo e vi aspetto tutti 15 febbraio al Politeama. Quando ci sarà sole.